L'essenza dei colori è lo spettacolo che racconta, parafrasando una celebre pellicola, i momenti di gloria di atleti che hanno contribuito a farsi portatori di valori universali, di pace e tolleranza. Un racconto di virtù, di sport e di vita, che, come la luce bianca, da un prisma si irradia nei colori dell'arcobaleno, in un susseguirsi di storie di atleti che hanno oltrepassato il senso dello sport come mera competizione e hanno incarnato i valori che hanno cambiato la società. Roberto Carsalen, gettato il cuore oltre l'ostacolo, taglierà il traguardo con le due costole rotte e la bandiera del peru in mano e ad attendere lo svizzero Dario Colonia, che gli vuole rendere omaggio. Yusra, Sara ed un'altra donna lottano contro i frutti del mare con tutte le loro forze nell'affrontare quel mare furioso, arrabbiato, che minaccia di affogarle. Emozione allo stato puro, dove le parole inclusione, determinazione, libertà, fratellanza e speranza sono rappresentate con i colori dei cerchi olimpici. Un racconto di donne e uomini speciali, atleti che hanno cambiato il mondo. Una serata imperdibile al Teatro Vittoria di Ponte, sabato 19 ottobre alle 21. Gianfranco Busi incanterà il pubblico con la narrazione degli eroi sportivi, che sono stati l'epicentro del cambiamento sociale. Grazie.